Prima l'incendio che ha danneggiato un capannone, quello dei fratelli Fortunato, molto noti in città, uno di loro infatti è consigliere comunale e l'altro ex presidente del consorzio IGP. Poi le indagini della DDA di Catania che hanno portato all'arresto dagli autori di un atto intimidatorio, incendiario, nei confronti dell'avvocato Quattropani. Poi ancora le minacce di morte a Paolo Borrometi, giornalista di inchiesta. Il clima di terrore che si vive a Pachino porta anche ad un intervento da parte del prefetto di Siracusa. Una commissione di indagine prefettizia si è insediata oggi al comune, composta da tre funzionari della prefettura di Siracusa, coadiuvata da un nucleo di supporto composto da rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. La commissione accederà agli atti del comune per verificare eventuali possibili forme di infiltrazione, di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi, ovvero il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale. L'accesso ispettivo dura tre mesi, prorogabili per ulteriori tre. Ed è proprio Paolo Borrometi a mettere luce sulla vicenda che riguarda il comune di Pachino, sempre più vicino ad un commissariamento. Al centro di tutto i due consiglieri comunali, Salvatore Spataro e Massimo Agricola, ha processo con il capo mafia Salvatore Giuliano che, come scrive Borrometi nel corso delle ultime elezioni, avrebbe tentato di eleggere un sindaco a lui vicino. Ad essere eletti però sono stati due consiglieri comunali che sarebbero stati determinanti per diversi atti consigliari, fra cui il più importante l'approvazione del piano di riequilibrio dell'ente. Adesso la commissione prefettizia vaglierà tutti gli atti ed effettuerà delle verifiche. E intanto il sindaco Roberto Bruno si dichiara soddisfatto e dice abbiamo sempre contrastato il malaffare e qualsiasi tentativo di illegalità nel comune. Accogliamo con serenità la notizia dell'insediamento della commissione prefettizia. Ci darà la possibilità di accertare la legittimità di tutta l'attività di questa amministrazione. Escludo, continua poi, ogni tipo di coinvolgimento della mia maggioranza, ma non solo. Sarà l'attività della stessa commissione che farà emergere l'integrità della condotta di questa amministrazione e la legittimità di tutti gli altri prodotti. Ma intanto la società civile ha già risposto con una marcia sulla legalità fatta proprio nei giorni scorsi. Adesso la parola passa alla commissione prefettizia.